Come si sposta l'aria? Ovvero parliamo della pressione atmosferica. L'aria ha un peso. Il peso dell'aria applica una pressione sulla superficie della Terra e quindi parliamo di pressione atmosferica. La pressione dell'aria dipende da vari fattori, tra cui l'altitudine e la temperatura. Per quanto riguarda l'altitudine, più aumenta meno pesa l'aria, cioè più saliamo in alto, più l'aria diventa leggera. Mentre per quanto riguarda la temperatura, quando il sole riscalda l'aria, l'aria diventa più leggera, quindi pesa di meno. Devi ricordare che l'aria calda, essendo più leggera, sale verso l'alto, mentre l'aria fredda, essendo più pesante, tende a scendere verso il basso.